Ieri sera è arrivata la nomina di De Luca, commissario della sanità. Lei si era sempre detto contrario ai commissari e in favore del ritorno alla gestione ordinaria. Come commenta? Io sono uno coerente nella vita, non è che cambio a secondo dei commissariamenti. Sono contro i commissariamenti, lo sono sempre stato, sono stato per il porto, sono stato per quello che abbiamo visto nella sanità nel passato in Campania, per quello che abbiamo visto sui rifiuti in Campania, per quello che abbiamo visto sui trasporti in Campania, per quello che abbiamo visto sul porto, per quello che abbiamo visto a Bagnoli. La mia non è una posizione contro una persona, è una posizione istituzionale, amministrativa, politica e giuridica. Sono contro i commissariamenti e a favore dei poteri ordinari. Questa è una posizione altamente democratica che ha sempre contraddistinto la mia azione politica.